Due macchinine giocattolo, un fuoristrada e una 500 destinate ai bambini ricoverati nella pediatria di Belluno affinché lo spostamento all'interno del reparto possa diventare occasione di gioco e dunque rendere meno traumatica la permanenza nella struttura. Questo risultato di un gesto di solidarietà di un gruppo di bikers bellunesi. La consegna dei mezzi si è svolta nel parco dell'ospedale San Martino alla presenza dei vertici dell'Ulsa Dolomiti, del personale sanitario e dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Una parte del dono, che è la cosa più importante, è quella della umanizzazione delle cure. In questo caso vogliamo solo rendere meno stressante lo spostamento dei pazienti dall'ospedale, dal nostro reparto, ad altri servizi, per cui abbiamo, similmente a quanto si fa all'estero in qualche ospedale, abbiamo deciso di spostarli in sicurezza comunque con queste macchinine elettriche. Anziché utilizzare barelle o carrozzine, quando sarà possibile, i piccoli pazienti verranno trasportati con le colorate automobiline. Sono stati donati inoltre degli sterilizzatori. È un segno di grandissima civiltà. A complimentarsi anche l'assessore regionale Bottacin. Questa è un'iniziativa che parte dagli arleisti, quindi gli appassionati di Harley Davidson bellunesi, capitanati in questo caso da Paolo Viel, che hanno voluto fare questa donazione. Quindi dietro l'aspetto che può sembrare anche così aggressivo degli arleisti, invece si nasconde un cuore che è assolutamente grande e credo che questa sia un'iniziativa assolutamente incomiabile. Grande emozione fra gli stessi motociclisti. Abbiamo voluto portare la nostra passione in un gesto di solidarietà nei confronti dei bambini.